Buongiorno a tutti e grazie per esservi collegati a questo nostro webinar. Io sono Alessio Urba, direttore del supporto tecnico di ACAB e oggi parleremo insieme di BCHED Simply Secure, criptografia e sicurezza in SaaS, quindi attraverso il cloud come fornire sicurezza sui PC, sui server e sui dispositivi mobile. Iniziamo subito ad entrarci nella nostra chiacchierata e vediamo di che cosa parliamo oggi. Allora parleremo della protezione dei dati a prova di furto, Lupin sapete che è un famoso ladro, faremo anche una demo in cui vediamo effettivamente la facilità di utilizzo sia nella parte di installazione sia nella parte di gestione di un eventuale furto del device, come utilizzarlo e poi una sezione di domande e risposte per cui possiamo liberarci di tutti i dubbi che dovessero essere emersi durante la presentazione. Allora, inizio con una domanda che è questa, ma se io vi parlo di sicurezza e vi dico che dovete fare molta attenzione alla sicurezza vostra e dei vostri clienti, voi cosa mi rispondete? Probabilmente mi rispondete questo, ma tanto ci sono i firewall, ci sono l'antivirus, l'antispam, io faccio DNS filtering, mi occupo di fare le patch sia applicative sia di software di terze parti, ho una buona soluzione di backup e disaster recovery e poi posso aggiungere a questi sistemi di intusion detection, per cui sono abbastanza sereno e su questo non ho niente da dire, nel senso che sono tutti strumenti utili e molto indispensabili, direi anche indispensabili oggi per fornire un po' di sicurezza. Però facciamo qualche riflessione rispetto a quello che ci manca rispetto alla sicurezza vera. Quelle cose lì che vi ho elencato ormai sono percepite come commodity, cioè sono scontate, nel senso che sono un requisito minimo per riuscire a gestire eventuali problemi di sicurezza e per far lavorare le aziende nel modo classico a cui siamo abituati. Soprattutto lo fanno tutti o quasi anche i vostri competitor e non sono differenzianti, perché si tratta di capire se vendere ad esempio WatchGuard o SonicWall, però non è che è qualcosa che qualcun altro non fa. E la sicurezza perimetrale? Questa è la domanda vera, cioè ok, internamente all'interno del confine aziendale noi abbiamo protetto attraverso tutti i sistemi che vi ho elencato precedentemente la sicurezza, ma quando i dati lasciano l'azienda cosa succede? Che controllo abbiamo? Che garanzia abbiamo che siano al sicuro? E qua quando penso ai dati che lasciano l'azienda sto pensando a dei notebook, ormai si lavora sempre di più in mobilità, penso a degli smartphone o a dei tablet con su dei dati aziendali e penso a chiavetta USB. Questi sono tre possibili veicoli di dati che escono dall'azienda, quindi il firewall all'interno dell'azienda come può proteggerli, o l'IDS all'interno dell'azienda come può proteggerli. Il modus operandi di oggi è che lo smart working è diventato una realtà, siamo spesso in giro sia chi si occupa della parte commerciale sia anche chi si occupa della parte tecnica e si lavora principalmente attraverso laptop o cellulari. Questo significa però una cosa molto importante che i dati escono, escono dal confine aziendale e quindi possiamo trovarci virus, intrusioni, furto di dati e anche smarrimento dei device, cioè può anche succedere che questi device vengano persi o rubati. Recentemente un collega che stava tornando a casa in treno si è appisolato 20 minuti, si è risvegliato e non c'era più il suo portatile con all'interno ovviamente i dati, portatile aziendale con all'interno i dati. Quindi è un problema sentito questo. Allora una possibile soluzione a queste tematiche può essere la criptografia. Ma tutti i pc e i dispositivi immobili dei tuoi clienti sono criptati? Chi è che mi vuole rispondere? Vediamo se qualcuno mi risponde. Voi attualmente li criptate? Rispondetemi in chat. Non mi risponde nessuno, non siate timidi. Allora, la criptografia per pc esiste dal 1991, però probabilmente anche se non mi avete risposto non l'avete ancora sviluppata all'interno di device che gestite. Ma perché? Beh intanto è onerosa, è complessa ed è molto costosa da attuare. Coinvolge l'utente e diminuisce la produttività. Perché dico questo? Perché bisogna fare delle operazioni sul pc dell'utente, ma questo comporta che l'utente quando voi dovete fare delle cose sul suo portatile non possa lavorare. Se non può lavorare non può produrre, se non può produrre diminuisce la sua produttività. La sostanza di questa cosa è che nessuno la usa. Cioè la criptografia esiste dal 1991, ma nelle aziende è usata pochissimo. Vediamo una definizione di criptografia. giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Questa è una definizione che mi piace molto e di cui lì in basso trovate il riferimento. La criptografia è un processo algoritmico per trasformare i dati in una forma tale per cui esista una bassa probabilità di potervi assegnare un significato senza il ricorso a una chiave o processo confidenziale. È una bella definizione per dire sostanzialmente che è un modo diverso di rappresentare i dati, quindi diciamo di modificare la leggibilità dei dati attraverso un algoritmo o una chiave che non permetta senza di essa di rendere leggibili facilmente i dati stessi. Questo è quello che criptografare significa. Vediamo se qualcuno mi ha risposto perché vedo che mi avete scritto. Nella maggior parte dei casi no, infatti siamo allineati su questo. Nella maggior parte dei casi non usiamo la criptografia. Andiamo avanti e pensiamo un attimo agli elementi base della criptografia. Questo che vedete sulla destra è il famoso enigma che permise di vincere la seconda guerra mondiale. Allora, o non si fa niente, quindi non si fa completamente criptografia, oppure ci sono delle soluzioni per affrontare il problema. La prima è la full disk encryption, quindi la criptografia del disco, quindi ad esempio sul portatile noi decidiamo di criptografare il disco. Oppure la criptografia dei file, che si chiama EFS, ad esempio su sistemi Windows, che è encryption del file system. Questi sono sostanzialmente i tre scenari della criptografia. O non fare niente, o fare criptografia del disco, o fare la criptografia dei file, o fare la combinazione delle due, criptografia del disco più criptografia dei file, ma ci torno dopo. Il nulla. E se scegliamo la prima, cioè di non fare niente, non c'è strategia per proteggere i dati fuori dall'azienda. Significa che se appunto viene rubato un portatile, o viene perso uno smartphone, e quei dati sono alla mercè di chi trova il portatile o di chi l'ha rubato. Il rischio è massimo a questo punto. E quindi cosa facciamo in questo caso? Affediamo la sicurezza alla buona volontà degli utenti, ma se le password sono semplici, e sappiamo che è difficile che ci siano delle password particolarmente complicate, o se portati smartphone USB vengono smarriti e rubati, cosa facciamo? Abbiamo perso i dati? L'altra cosa è che chi fa il vostro lavoro, quindi che eroga servizi, non è in grado, se non fa appunto criptografia, di offrire un servizio per la protezione dei dati, perché non sta facendo criptografia. Questo è il primo risultato. Se non offrite, offriamo nessun servizio, non possiamo fare nessun ricavo. Crittografia del disco, quindi la full disk encryption, parliamo un attimo di questo. Cosa fa? Fa la crittografia dell'intero disco, tutto il contenuto quindi viene criptato. Quali sono i pro? E poi nella slide dopo vediamo incontro. Beh, intanto è una sicurezza a PC spento, perché senza la full disk encryption basta mettere un hard disk in un lettore esterno e si vede tutto. Quindi è facilissimo accedere ai dati senza nessun tipo di protezione. Perché? Perché appunto non sono criptati i dati all'interno del disco. Vi ricordo, lo sapete sicuramente, ma ve lo ricordo che sui dischi sono cacheate le credenziali di accesso. Ok? Perché pensate ad esempio a una login di dominio. Ok? La login di dominio funziona anche quando noi non siamo connessi al dominio, perché siamo fuori rete, fuori dominio. Significa che le credenziali sono cacheate all'interno del portatile, ad esempio. Significa quindi che potenzialmente un hacker capace può accedere alla vostra rete. Perché? Perché può trovare le credenziali che si trovano all'interno del disco e da lì fare i danni che possiamo immaginare. Andiamo avanti. I contro della full disk encryption. Intanto è onerosa da mettere in pista. Perché bisogna fare le configurazioni, perché ci sono dei problemi di compatibilità, ad esempio quando si sta facendo l'upgrade o il patching del sistema operativo. Richiede dell'intervento dell'utente, bisogna ricordarsi le password. Ci possono essere dei rallentamenti sul sistema, il decrypto del sistema, quindi del sistema operativo o dei dati stessi. È critico, come vi dicevo, anche per gli upgrade del BIOS. E non permette di eseguire lavori da remoto, nel senso che tutta questa parte di configurazione, di gestione, di inserimento della password, di criptografia, deve essere fatta localmente, quindi bisogna trovarsi nella sede del cliente che si gestisce. Una derivata, diciamo, della full disk encryption, per quanto riguarda i sistemi Windows, è BitLocker. Qual è la differenza tra la full disk e BitLocker? Che intanto BitLocker utilizza l'intero disco, ma tutto viene criptato a parte il sistema operativo. Questo è un vantaggio. Il pro di questa scelta qual è? E intanto che è compatibile perché è nativo di Windows, cioè è dentro Windows, per cui, diciamo, non ci possono essere problemi di compatibilità col sistema operativo stesso. Non richiede un intervento utente, che è un altro vantaggio, cioè attraverso il TPM, che sapete che è il chips, il chips che si trova, ad esempio, sui portatili, si può fare senza che l'utente faccia nulla. In questo caso, quindi, il fornitore di servizi, il manager service provider, può intervenire da remoto tranquillamente. Possiamo però ai contro di questo, del BitLocker, quindi della scelta di configurazione del BitLocker. I contro sono, va attivato, per cui qualcuno deve fare questa operazione. Non puoi gestire le macchine che sono fuori dal dominio, perché tipicamente questa cosa viene fatta attraverso una GPO, cioè per attivare BitLocker a tappeto all'interno dell'azienda. Non c'è una visibilità e un controllo sullo stato, il setup e la compatibilità, ma l'abbiamo attivato, ha finito la configurazione o siamo ancora a un livello per cui deve finire la configurazione? Qual è lo stato delle macchine? Appena Windows parte, quindi abbiamo detto che il sistema operativo non è protetto da BitLocker, e il lavoro della protezione è finito, quindi i dati lì sono in chiaro. Può essere disabilitato dall'utente, perché basta che lui decida di disabilitarlo e lo disabilita, e diventa inutile se le credenziali sono facili o viaggiano col PC, cioè se noi abbiamo un'etichettina o il foglietto della password insieme al PC, tutto il lavoro che è stato fatto è totalmente inutile. Bisogna pensare a come gestire le chiavi, nel senso che le chiavi vanno memorizzate da qualche parte e vanno gestite, perché tutto quello che deve essere utile all'accesso dei dati va anche gestito, perché poi potrà succedere che quando voi fate il boot della macchina chieda la password di recovery di BitLocker e siccome non è una cosa facilmente ricordabile, se non l'avete messa da qualche parte e gestita in un modo consistente, potreste trovarvi di fronte dei problemi. È critico per gli update di BIOS o di alcune particolari patch dei sistemi operativi. E può succedere in alcune situazioni quello che vi dicevo, cioè la comparsa imprevista di BitLocker recovery mode e qui se non si è la password è un problema, l'utente resta bloccato perché non può inserire quella password. Passiamo alla parte di critografia dei file, quindi Encryption File System EFS. La cifratura in questo caso viene fatta a livello di file, Encryption File System B. Quindi cosa succede? Succede che vengono create delle chiavi a seconda di chi, le chiavi di encriptazione, a seconda di chi accede a quei file. Poi lo vediamo nel dettaglio. Qual è il pro di questa cosa? Sicurezza a livello dei file e compatibilità perché anche lui è nativo per Windows. Qui il Deep Dive è su Windows, quindi parliamo dei sistemi Windows perché sono i più diffusi. Il vantaggio è che se non abbiamo abilitato EFS, basta partire con un live CD e si accede ai file. Quindi i file sostanzialmente sono facilmente rubabili e in chiaro per chi abbia accesso fisico alla macchina. Senza EFS gli utenti dello stesso PC possono vedere i dati. Cioè l'amministratore può entrare in una macchina, entrare in una cartella utente e vedere il contenuto dei file che magari però sono file privati, sono file aziendali per cui anche l'amministratore non deve poter accedere a quei file e non deve poterli vedere. Sia amministratore sia non amministratore. L'altra debolezza è che non avendo criptato questi file i dati possono essere letti anche via rete. Basta accedere remotamente alla directory e si possono leggere tranquillamente quei dati. Quali sono i contro? Va attivato, per cui c'è un oner di gestione e la sicurezza è legata alla complessità delle password. Cioè se io come password di accesso al mia macchina ho scelto Pippo Pippo e utente Pippo e password Pippo è chiaro che posso avere tutti i metodi di criptografia che voglio ma è facile indovinare quella password per cui potrò impersonare quell'utente e vedere chiaramente i suoi file. È molto delicata la migrazione da un PC a un altro nel senso che EFS è molto utile però succede che poi i PC vadano cambiati o migrati o l'utente o il dipendente cambia lavoro e quindi quel portatile viene assegnato a qualcun altro ecco questa cosa quindi la migrazione dei dati è piuttosto complicata quando si deve cambiare PC con EFS. Parliamo adesso di criptografia e sicurezza su e-mobile. Che dati dobbiamo proteggere innanzitutto è la domanda su e-mobile. Allora innanzitutto direi i contatti, le e-mail e i file scaricati delle e-mail perché le e-mail sono anche questo un contenuto aziendale sono dati aziendali anche i contatti possono essere sia contatti personali sia contatti aziendali. Le foto e poi possono esserci ad esempio foto che riguardano i sinistri per il perito di assicurazione gli ispettori di sicurezza su navi e impianti le password e i PIN per cui diciamo dati da proteggere anche sui dispositivi mobile ce n'è e ce ne sono tanti. Qual è il pro dell'iOS quindi parliamo prima di iOS che di default è già criptato il sistema. Quali sono i contro? Che manca una password policy per cui non c'è una configurazione e gestione della password di cifratura in caso di furto e perdita e se il PIN viaggia col cellulare come proteggi con i dati comunque una volta che ho in mano l'iPhone posso tranquillamente leggere i dati e se voglio dare la revoca non riesco a dare la revoca di accesso a quei dati cioè i dati sono facilmente accedibili se restano nelle mani sbagliate. Non sono in grado di fare deploy di profili diversi di wifi e email per esempio e non posso fare la gestione delle app quindi decidere che cosa installare e che cosa no anche se il sistema iOS è criptato. Android parliamo di Android il primo contro è che a differenza di iOS come sapete non è criptato di default quindi manca una password policy anche qua in caso di furto e perdita il PIN è insieme al cellulare e quindi come proteggo quei dati non ho la possibilità. L'altra cosa è che non posso fare la revoca di accesso cioè il cellulare ce l'ha in mano Pluto io decido che Pluto non deve più accedere ai dati contenuti in quel cellulare e come posso farlo se non ho il cellulare in mano non lo posso fare da remoto. Ancora deploy profili e wifi di email quindi anche qua il deploy di wifi o delle configurazioni per scaricare utilizzare le email non posso farla per cui è molto scomodo perché anche qua se voglio fare la revoca dell'accesso o voglio impedire che le mail da domani vengano scaricate su quel cellulare perché quel cellulare è fuori controllo non lo posso fare e la gestione delle app come su iOS non posso impedire o permettere o controllare quali siano le app che vengano installate. Parliamo delle chiavette quindi così abbiamo toccato tutti gli argomenti della sicurezza il chiavetto USB e i pro dell'utilizzo della chiavetta per scambiare i file è che sono molto semplici da utilizzare basta inserire una chiavetta USB e i dati vengono scambiati quali sono i contro di questa scelta non c'è nessun controllo sulla fuoriuscita dei file tutti i file che sono lì dentro sono leggibili e accedibili da chi possiede la chiavetta quindi se la chiavetta viene persa o viene lasciata appositamente in un parcheggio pensate che uno dei test di sicurezza che fanno sulle grandi aziende che è famoso è lasciano nel parcheggio delle aziende delle chiavette per terra diciamo appositamente per terra e vogliono controllare e verificare chi le raccoglie e arriva in azienda arriva in ufficio e inserisce la chiavetta all'interno del suo portatile quindi anche con rischi per quanto riguarda la sicurezza aziendale oltre che nella privacy perché magari la chiavetta potrebbe essere infetta oltre che contenere dei dati che non sono che non è corretto che vengano visti se la chiavetta viene persa non c'è modo di impedire l'accesso a quei file non c'è nessun modo perso la chiavetta basta quei file sono persi quindi potenzialmente sono alla merce di tutti ma lì dentro ci possono essere file molto importanti come progetti configurazioni aziendali cose top secret per l'azienda quindi la sfida che vogliamo risolvere qual è è questa proteggere i dati del cliente sempre eliminando le criticità viste cioè tutti i contro che vi ho raccontato vanno eliminati generando ricavi ricorrenti perché è una soluzione per manager service provider quindi questa è la sfida che il prodotto che vi presento e vi faccio vedere deve riuscire a vincere cos'è SimpliSecure quindi è una piattaforma in cloud che semplifica e automatizza l'erogazione dei servizi di chitografia e sicurezza per pc server mac e dispositivi mobili quindi sia in grado di implementare ad esempio la parte di bitlocker e la parte di fs in maniera centralizzata da un'unica console con le chiavi e la gestione delle chiavi già all'interno della console stessa sia per quanto riguarda mac o mobile la gestione sia della parte di crittografia sia anche della parte di revoca e deploy di applicazioni revoca degli accessi e così via questo è uno schema per spiegare come funziona c'è il manager service provider che si trova all'interno nella sua rete quindi basta che abbia una connessione internet che gli permette di accedere alla console e da questa console può fare tutte le configurazioni che gli pare piace sia per quanto riguarda la protezione della crittografia sui server sia per quanto riguarda i portatili sia per quanto riguarda i mac sia per quanto riguarda le chiavette usb sia per cellulari tablet che siano ios o android questo è quello che simply secure fa quindi protegge i dati durante la vita del device tutta la vita del device perché i dati possono o possiamo decidere o il vostro cliente può decidere che quell'utente che prima aveva accesso a quei dati non deve più avere accesso oppure può succedere che finiscano nelle mani sbagliate fa la crittografia è in grado di fare l'enforcing delle password policy può reagire facilmente a eventi come il furto e lo smarrimento sia di portatili sia di cellulari è in grado di fare il lock da remoto dei device per cui non c'è più possibilità di accedere a quel device è in grado di fare la cancellazione da remoto dei dati per cui ad esempio una cosa che può fare è voi decidete che quel pc è rubato perché lo dite nella console e dite quel pc è rubato e lui cancella anche il master boot record oltre ad aver criptato i file il pc non sarà neanche più accendibile per cui chi ha in mano quella macchina non se ne fa sostanzialmente niente è in grado di gestire l'installazione e l'animazione delle app da mobile è capace di fare la protezione del chiavetto usb quindi anche disabilitando l'accesso all'usb stessa e fa la crittografia attraverso una chiave che è una chiave di crittografia che viene inserita nel momento in cui voi decidete di crittografare la chiavetta usb e l'unica cosa che dovete essere in grado di fare è ricordarvelo è pensato per i managed service provider nasce per gestire e automatizzare da remoto le operazioni di crittografia quindi senza dover andare fisicamente nelle sulle macchine degli utenti perché è una console multi tenant quindi potete decidere di far accedere anche i vostri clienti ai dati loro quindi voi siete l'MSP quindi siete in testa alla console però potete decidere che il vostro cliente veda solo i suoi pc quelli che afferiscono alla sua azienda mentre voi magari sotto la console avete diverse aziende che gestite fate la protezione dei dati sia quando il device è online sia quando il device è offline è multipiattaforma è multidevice come abbiamo visto va bene su Mac va bene su Windows va bene su iOS va bene su Android si appoggia alla crittografia dei sistemi ospiti questo è molto importante perché non ci sono cose proprietarie a parte la gestione USB usa elementi presenti sul sistema operativo questo è un grosso vantaggio perché ad esempio non si incorre su problemi di compatibilità o di imprevisti del malfunzionamento perché quel sistema lì è stato aggiornato perché è nativamente all'interno dei sistemi operativi usa BitLocker EFS ad esempio per quanto riguarda Microsoft quindi sono implementazioni fatte da Microsoft e configurate attraverso BitChad per Mac più esperti sanno che il loro sistema è basato su FileVault su Android encryption sapete che su Samsung c'è il sistema Knox per cui viene utilizzato il sistema Knox sugli altri Android già ve lo dico non ci sono sistemi di criptografia embedded per cui non vengono utilizzati su iOS c'è CoreCrypto quindi le configurazioni vengono fatte attraverso il sistema iOS mentre l'unico proprietario è USB per ovvie ragioni perché gli USB non hanno un sistema operativo vero e proprio su DS per cui per proteggere quei dati andava utilizzato e configurato un sistema proprietario di cripting allora perché dovete usare perché dovete usare configurare e vendere ai vostri clienti un sistema come Simpli Secure perché come vi ho detto durante le slide che vi ho fatto vedere i pro e i contro risolve i contro dei sistemi configurati all'interno dei sistemi operativi cioè risolve i problemi di compatibilità di configurazione di gestione da remoto di BitLocker di EFS di FileVault e delle cifrature di EOS Android che altrimenti andrebbero gestite con tutte le eccezioni che abbiamo visto rispetto ai contro rimuoviamo inoltre le criticità della protezione dei dati perché questi dati sono protetti in ogni momento durante tutta la vita non solo quando si trovano all'interno del perimetro aziendale ma anche quando si trovano a casa dell'utente sul treno o nella macchina quando vengono persi e soprattutto questa protezione garantita viene fatta in modo semplice e molto veloce vedremo poi nel lab come si installa e come si decide che un device è perso BitLocker e SimpliSecure adesso vediamo delle tabelle comparative tra il BitLocker per esempio tra i vari sistemi nativi sui sistemi operativi e i vantaggi offerti invece dalla soluzione implementata attraverso SimpliSecure per cui la prima criticità di BitLocker è che va attivato bene SimpliSecure ha un agente che voi configurate preventivamente dalla console cioè decidete che cosa deve fare l'agente e semplicemente lo dovrete lanciare e quando lo lanciate non dovete poi attivare BitLocker perché è già configurato per l'agente l'agente sa già che quando va su quelle macchine deve attivare una certa cosa non c'è la visibilità sullo stato nel BitLocker classico come ve lo dicevo nei contro ecco avete una console multi tenant in cui potete vedere lo stato di avanzamento della criptografia quali sono già tutti criptografati quali devo ancora criptografare quali sono in corso e se ci sono eventuali criticità sulla partizione anche di problemi di file system ad esempio quando Windows riparte nella soluzione non gestita da Simpli Secure per BitLocker c'è la fine della protezione nel senso che una volta che il sistema operativo è partito come vi ho detto il gioco di protezione è finito mentre invece usando Simpli Secure questa criticità quindi la protezione del dato anche a sistema operativo partito può essere gestita attraverso l'abilitazione di EFS in automatico o forzare un wipe remoto dei dati ok non avevo abilitato EFS perché avevo deciso di non abilitarlo però questo PC è stato smarrito io semplicemente cambio la configurazione del PC e gli dico dalla console che questo PC è smarrito e non c'è verso di accedere anzi posso cancellare completamente i file oppure forzare uno shutdown permanente un'altra policy che si può fare per cui decidiamo che quel PC associamo al fatto che quando decidiamo che il PC è rubato non si possa più accedere può essere disabilitato BitLocker nella modalità classica di utilizzo non può essere cioè può essere disabilitato sempre dall'utente perché fa parte di Windows ma noi abbiamo una console per cui ci notifica che è stato disabilitato e possiamo forzare la riabilitazione automatica quindi non è che ci dobbiamo collegare e riabilitarlo ma possiamo fare una policy per cui anche se l'utente lo disabilita per qualche motivo viene automaticamente riabilitato la gestione delle chiavi che è un pain sia per quanto riguarda le chiavi di criptazione sia se pensiamo anche alle password classiche degli utenti ecco sono memorizzate all'interno della console e quindi chi ha accesso alla console può avere sotto controllo tutte le chiavi e vedere esattamente quali sono il bitlocker è critico per upgrade di BIOS e patch è semplice se voi avete il problema di compatibilità su una patch o dovete fare l'aggiornamento del BIOS semplicemente potete disabilitare temporaneamente il bitlocker fare l'aggiornamento del BIOS e poi riabilitarlo quindi anche qua non c'è un intervento sul posto da parte dell'MSP ma semplicemente attraverso la console può essere fatta questa cosa non vengono gestite le macchine fuori dominio con bitlocker e invece con una console con la console di simple secure è facilmente abilitabile anche su pc stand alone il bitlocker recovery mode che si può presentare perché magari il sistema operativo sente un cambio di configurazione e quindi vi presenta la schermata di recovery mode in cui va inserita la password nella console vengono tracciate tutte le azioni fatte a livello di sicurezza su quel device per cui possiamo vedere che cosa ha causato le richieste del recovery mode passiamo a fs vantaggi nell'utilizzo di simple secure la prima è sempre da attivare come ho detto prima è una configurazione sulla gente basta installarlo e il problema è risolto questa cosa la vediamo poi nel lab la sicurezza legata alle password perché se viene smarrito o rubato il device nella configurazione classica di fs il gioco è fatto perché se c'è una password semplice di criptazione o l'utente ha una password semplice di accesso fs serve a poco ecco che invece con la modalità simple secure possiamo forzare lo shutdown e avere il controllo o fare il wipe remoto come abbiamo visto per bitlock la migrazione dei pc è molto delicata per quanto riguarda fs perché appunto ci sono le chiavi di cripting da gestire ma con simple secure può essere facilmente disabilitato e riabilitato oppure fatto il decrypto di tutto e poi rigestito una volta migrato criticità per quanto riguarda la gestione dei mobile anche qua la criptografia va attivata ma viene attivata invece in automatico con l'agente che viene installato sui dispositivi mobile la revoca di accesso ai dati è una cosa critica perché non si ha un gestore remoto del mobile perché se io la devo fare da remoto come faccio se non ho un accesso remoto al device ecco attraverso l'agent che è installato quindi equiparabile a un'app se vogliamo un'app di sicurezza possiamo forzare un wipe remoto dei dati per cui senza avere il cellulare in mano possiamo proteggerlo se il pin viaggia col telefono che cosa che molto spesso succede è la criptografia sul mobile di solito serve a poco mentre invece anche se ci fosse questo problema ancora una volta avendo la gestione remota possiamo forzare un blocco del telefono direttamente dalla console non c'è una password policy sui telefoni classici senza una gestione centralizzata possiamo forzare politiche sicure per quanto riguarda le password non c'è la gestione della mancante non c'è la gestione dei profili wifi e email possiamo pushare le configurazioni di wifi e email da remoto quindi pensate come è comodo voi avete 20 cellulari da gestire semplicemente gli pushate la configurazione per quanto riguarda l'SSD e la password e avete risolto il problema di gestione oppure gliela disabilitate per cui gliela cancellate per cui se il pc scusate se l'android o l'iOS sono stati persi nessuno potrà vedere quella wifi e quella password della rete non c'è una gestione delle app nella modalità classica invece attraverso Simple Secure si possono gestire e rimuovere da remoto le app perché c'è un configuratore di app in cui decidete quali sono quelle white listate e quali black listate per cui non si possono installare USB e poi andiamo sulla parte di Encryption Lab e la prima criticità sulla parte USB è quello che abbiamo raccontato prima cioè non c'è un controllo sulla fuoriuscita dei file dal perimetro aziendale cioè chi ha accesso all'USB ha accesso ai file semplicemente con Simple Secure si possono disabilitare le poste USB per lo storage per cui potete anche fare in modo che non vengano copiate se i file si trovano sulla chiavetta sono disponibili a tutti invece noi possiamo criptare le chiavette con delle credenziali specifiche per cui chi non ha la password di accesso all'USB non può accedere a quei dati se si perde la chiavetta non c'è modo di bloccare l'accesso ai dati invece con Simple Secure è possibile fare la revocar da remoto dell'accesso ai dati e quindi brasare sostanzialmente da remoto la chiavetta e basta questo è diciamo un overview dei vantaggi dei pro e dei contro che vi ho raccontato prima come vengono risolti da Simple Secure ultimo ma non meno importante GDPR perché comunque il 2018 è finito ma non è che il GDPR è finito e siamo solo all'inizio allora l'articolo 32 dice specificatamente tenendo conto dello stato dell'arte dei costi di attuazione comprendono tra le altre la cifratura dei dati personali non ve l'ho scritto tutto ma diciamo dove ci sono i puntini sapete meglio di me qual è l'articolo ma a un certo punto l'articolo 32 dice esattamente che vanno criptati i dati personali e aggiungo che gli articoli 29, 33, 34 parlano di data breach e di notifica agli interessati quindi se c'è stato un furto di dati va notificato agli interessati ma se i dati sono cifrati e perdiamo il PC decade l'obbligo di notifica ovviamente perché quei dati non sono accessibili quindi pensate le spese legali che la notifica agli interessati potrebbe comportare e semplicemente se i dati siano criptati non dobbiamo notificare niente per cui il problema è risolto prima che accada per cui non ci dovremo porre il problema della notifica e del data breach io ricordo che il data breach va anche notificato all'autorità e anche in questo caso non ci sarebbe data breach se i dati fossero criptati torniamo alla domanda quindi che cos'è SimpliSecure? è una soluzione di criptografia e sicurezza sempre allerta cioè è sempre pronta ad accorgersi di malfunzionamenti di furti così che consente quindi in ogni momento di blindare i dati definitivamente in maniera semplice e veloce due clic sulla console e quei dati sono cancellati e inaccessibili per sempre ora tutto quello che vi ho raccontato lo vediamo un po' nella pratica ho visto che mi avete scritto delle domande e alla fine c'è una sezione di domande e risposte per cui cercherò di rispondere a tutti intanto vado verso la conclusione e poi affrontiamo le domande cosa facciamo nell'Encryption Lab attraverso VirtualBox se mi assiste quello che voglio far vedere è questo installiamo e cifriamo attraverso EFS verifichiamo che i dati siano stati veramente cifrati quindi cambiando utenza vedremo se ho veramente criptato i dati e facciamo ad esempio una reazione automatica a un furto vediamo come funziona o 5 login errate oppure distruzione remota dai dati partiamo quindi io qua ho una macchina che è una macchina su VirtualBox che dovreste vedere e accedo con un'utenza su questa macchina non c'è installato nulla in questo momento quindi accedo con un'utenza e andrò a installare l'agent che mi interessa che è quello di SimpliSecure quindi come si fa l'installazione è molto semplice si accede alla console che si trova in cloud si usano le credenziali a cabdemo useremo questa quindi si entra si mette una login e una password e si entra all'interno della console si ha messo di ricordarsene le password sto entrando aspettiamo che carichi ecco questa è la console che di cui a cui abbiamo accesso in cui vediamo sostanzialmente quello che vi dicevo prima lo stato dei nostri device quindi vediamo ad esempio che qua ci sono dei pc windows che sono criptati vedete che è suddiviso per tipi di sistema e per stato e anche che tipi di sistemi operativi ci sono quindi se sono computer e se sono sistemi windows e che versione di windows e la versione dell'agent e soprattutto lo stato del cripting che è un'altra informazione importante cioè io voglio sapere sempre qual è lo stato delle mie macchine ma FS è attivo non è attivo e quindi da qui gestire se andiamo sui manage device vedete che posso configurare gli alert o posso gestire varie cose in questo momento quello che ci interessa non è fare l'overview della diciamo console di come funziona quello se volete e quando siete interessati poi è un discorso da approfondire durante l'onboarding ma facciamo la parte di installazione dell'agent come si fa l'installazione dell'agent viene preparato un agent configurato ad hoc in cui ci siano delle policy dentro l'MSI che viene scaricato che quindi basta che clicco download e viene scaricato e faccio direttamente esegui e in base alla configurazione dell'agent stesso verranno automaticamente applicate le policy quindi ad esempio installato e abilitato EFS o BitLocker o entrambi per cui qua procedo all'installazione vedete che Windows già dice esegui backup e crittografia della chiave ma io di questa cosa non mi devo preoccupare perché è BCHED che mi memorizzerà le chiave di criptazione faccio l'installazione quindi gli ho dato la password amministrativa perché ho un'altra utenza e l'installazione è finita per cui in questo momento potrei andare a verificare anche nella home direttamente lo stato di avanzamento dell'installazione la cosa più semplice che possiamo fare è verificare subito se i pc sono vedete che intanto il numero di pc è cambiato prima erano uno e adesso sono due quindi volendo io potrei cliccare direttamente da qui aprire il link e vedere che cosa sta succedendo ma la cosa che ci interessa è vedere se effettivamente EFS è attivo e una delle cose più semplici da fare è creare un file che lo chiamiamo file di text txt test.txt in cui all'interno prova configuro salva diciamo scrivo delle cose qua vediamo se è associata ancora non è stato abilitato il il lucchettino perché non è stato abilitato perché vedete che non mi cambia il qua se ci fosse la criptazione EFS avrei il lucchettino benissimo quindi qua io ho creato un file che si chiama test.txt e che in questo momento non viene criptato perché l'agent probabilmente è configurato solo per configurare e per utilizzare Android quindi si scusate per utilizzare BitLocker per cui non fa il cripting ok se invece fosse configurato e fare il cripting qua mi apparirebbe il lucchettino adesso quello che facciamo è cambiamo la VM per cui sempre se così vi faccio vedere l'altro che invece è configurato ad hoc quindi facciamo partire questa e facciamo avvia avvia normale facciamo partire un'altra macchina che è la gemella di questa e vi faccio vedere questa cosa del lucchettino che vi ho raccontato nel frattempo vediamo se avete alcune domande in frattempo che aspettiamo che parta ah si ok ok Marco intanto che aspettiamo la la partenza di BitLocker se BitLocker mi assiste se no ne clono un'altra se VirtualBox non esiste tu mi hai fatto una domanda che è ma se chi ha rubato la macchina non criptata lo accende senza collegarla a una rete come può la console remota di Simpli Secure forzare l'eventuale policy anche per i mobile come sopra allora siccome sono delle policy scritte all'interno dell'agent ci può funzionare anche offline cioè l'agent può dire che al quinto tentativo puoi configurare una policy per cui al quinto tentativo di password sbagliata la macchina non sia più accessibile al decimo al ventesimo oppure se non si collega in rete entro due settimane tre settimane quella macchina lì non deve essere più accessibile per cui l'agent semplicemente saprà che non è più possibile accedere alla macchina stessa anche se la macchina è offline e la stessa cosa vale per i cellulari cioè è l'agent che si accorge se la macchina non si collega mai a internet per cui dopo tre settimane quattro settimane cinque settimane in base al parametri che tu hai deciso non si potrà accedere vedete che qui ci sono i lucchettini che vi dicevo ok quindi questi file sono legati a una chiave e la chiave è memorizzata all'interno della console stessa basta andare qua fare dettagli e vedete che ci sono delle chiavi queste chiavi vengono memorizzate automaticamente all'interno della console stessa se io adesso faccio esco entro con un'altra utenza sempre che la sbaglierò troppe volte ecco vedete che qui c'è una policy legata alla password sbagliata e la macchina si è spenta automaticamente perché io ho sbagliato la password cinque volte ok quindi avete il controllo di quello che succede direttamente al di là del fatto che la macchina sia collegata su internet o meno quella macchina lì si è automaticamente spenta perché la policy a cui è legata semplicemente dice che si deve spegnere dopo cinque tentativi nel frattempo la macchina su cui avevo fatto avevo creato il file che avevo chiamato prova prova ha finito la prima configurazione che è la configurazione di encryption quindi di abilitazione di fs e vedete che mi è comparso anche qua il lucchettino a questo punto faccio esci e cambiamo utenza questa volta possibilmente azzeccando la password vi faccio vedere anche qua che se la sbaglio n volte ma perché ce la c'è la tastiera americana ok questo perché sto incendendo con un altro utente adesso al di là del fatto che vi ho già fatto vedere sulla macchina di prima il reboot quindi lo spegnimento automatico legato alla policy perché voglio entrare con un'utienza amministrativa perché questa utenza legata alla login H è un'utienza amministrativa andare su quei file lì che ho creato sul desktop dell'utente Alessio e farvi vedere che non sono accessibili perché abbiamo visto che hanno la chiave di encryption per cui vado sul disco vado su C users cerco l'utenza Alessio e sul desktop faccio continua perché sono amministratore per cui ho tutti i diritti del mondo vado su desktop e aprirò questo file vedete che Windows mi dice no caro amico non puoi leggere questo file perché perché il file è protetto da una chiave di encryption la chiave di encryption non appartiene all'utente amministratore ma appartiene all'utente Alessio per cui anche se tu vedi il file che si chiama test.txt o pensate si chiama bustapaga.txt o si chiama bilancio.txt non lo puoi leggere ok quindi anche se sei amministratore non lo puoi leggere benissimo questo è una delle cose che vi lo fa vedere l'altra cosa è torniamo sull'utenza di Alessio che è quello che possiede il file e cerchiamo di dire alla console che quel pc invece è rubato e vediamo cosa succede quindi cambiamo dalla console il comportamento vediamo se intanto avete fatto altre domande Marco quindi ti ho risposto ok grazie a te per la domanda figurati non c'è nessun problema allora adesso riaccediamo alla console quindi riaccediamo alla console sempre il problema di sbagliare le password abbiamo password diverse per ogni cosa per cui ok adesso ci troviamo in questa situazione ok andiamo nella home qua siamo nella home che è quello che ci fa vedere e vogliamo andare a vedere il device per cui clicchiamo sui due device che abbiamo qua ce n'è uno che è questa che si chiama win10sss urban vi faccio vedere che è esattamente questa la macchina cmd hostname per cui vedete che lostname è esattamente questo cioè la macchina che ho appena installato vedete anche che è 351 perché vabbè l'orario è l'orario americano ma fa poca differenza quindi l'ho appena installato e l'ho installata oggi e vedete che mi dice esattamente EFS ok e win encryption type EFS holy perché essendo una macchina virtuale BitLocker non può essere abilitato scusate prima di andare avanti nella demo vi faccio notare questo vedete che qua lui comunque in un'altra macchina che è una macchina di testa si accorge esattamente se la macchina è online o offline per cui è la policy che è legata ed è memorizzata all'interno dell'agent che sa se la macchina è data online o offline e quindi anche offline è in grado di gestire la sicurezza adesso noi supponiamo che questa macchina qua da cui siamo collegati sia stata rubata quindi cosa vogliamo fare vogliamo dirgli che è rubata allora change status quindi seleziono la macchina l'ho flegata e faccio change status e ho diverse possibilità quello che voglio fare io è kill cioè gli dico che la mia macchina è stata rubata ok a questo punto cosa succede che lui cambierà il comportamento della macchina stessa ok kill stolen e a questo punto io non ho fatto niente e come vedete la macchina si è automaticamente spenta lo vedete io non ho fatto niente gli ho solo detto che la macchina era kill e lui il mouse qua non ho fatto niente mi ha spento la VM quindi se la VM fosse stata online sarebbe stata spenta immediatamente oh questa è una cosa che stiamo facendo in diretta per cui la macchina ce l'abbiamo online e la facciamo se avessimo fatto la configurazione precedentemente sarebbe già memorizzato il comportamento che deve tenere questa è la macchina io non ho fatto niente e la macchina si è spenta adesso provo a fare l'avvio e vediamo cosa succede provo a fare il riavvio e in base alla policy cioè all'interno di BCED ci sono le policy quindi kill stolen cosa vuol dire cioè cosa devi fare quali sono i comportamenti nel momento in cui la macchina io te la marco come kill che l'agent deve configurare e vedremo qual è il comportamento di questa macchina se tutto va come deve andare io non dovrei più essere in grado di accenderla sostanzialmente perché nella policy che ho fatto prima di farmi vedere la demo ho detto che mi doveva cancellare il master boot record eccolo qua quindi avete visto che questa macchina qui non è più utilizzabile è morta perché anche il master boot record allora io avevo ho già i dati criptati perché c'era fs dentro supponiamo che fosse una macchina fisica avevo anche bitlocker però se nella policy che gli ho detto gli ho detto anche che dopo 5 tentativi 10 tentativi 15 tentativi di accesso deve comportarsi così mi braserà il master boot record e chi ha in mano quella macchina non potrà neanche più accenderla e gli verrà fuori questa bellissima schermata per cui diciamo non c'è qua non c'è niente da fare o si mettono a restaurare il master boot record o possono buttarlo via ok quindi virtualbox mi ha assistito adesso possiamo andare sulla sezione di domande e risposte spero che la demo l'abbiate apprezzata prima di andare sulle domande e risposte vi faccio io un piccolo sondaggio che vi lancio in questo momento in cui vi chiedo se diciamo visto quello che vi ho raccontato vi interessa approfondire il discorso di subito di Bichet Simpsicure oppure volete prendervi del tempo per pensare meglio alla soluzione io credo che la soluzione meriti davvero un approfondimento e che sia molto utile in termini di sicurezza perché avete visto che con semplicemente due click ho installato l'agent e ho cambiato il comportamento del device stesso per cui garantendomi la sicurezza vi lascio ancora qualche secondo per finire il vostro se invece pensate che diciamo in questo momento siete occupati su altro votate pure no e basta insomma intanto preparatevi le domande che avete perché andiamo nella sezione di domande risposte gli ultimi manca ancora qualcuno che deve votare 5 4 3 2 1 e grazie tolgo il sondaggio grazie e andiamo sulle domande vedo che qualcuno ha scritto ancora rispondo a Paola sicuramente allora il mio webinar è registrato per cui sarà disponibile il contenuto e alla fine del webinar le slide vengono rese disponibili dai nostri valenti colleghi del marketing per cui non ci sono problemi vi vengono inviate se siete iscritti e avete partecipato vi vengono inviate le slide che vi ho fatto vedere per cui non ci sono problemi andiamo con le domande altra domanda Marco non parte più il pc o il portatile ma devo recuperare per forza i file di quell'utente per fornirli su un nuovo pc come tolgo l'accripazione dei file sulla vecchia macchina per scrittare successivamente sulla nuova c'è una utility fornita direttamente ripeto la domanda per tutti perché magari l'ho letta velocemente Marco chiede ok io devo migrare i dati da un pc all'altro però voglio renderli chiari prima di migrarli di là e come posso fare insomma perché i file sono criptati c'è una utility di decryption che viene scaricata dalla console in cui si possono decryptare i file ovviamente devi avere la possibilità di accedere a quella utility quindi dipende dalle ACL di accesso alla console che vi ho fatto vedere quindi è solo quello e poi puoi criptarli successivamente sulla macchina nuova questo è un modo se vuoi renderli se vuoi prima decryptarli e poi ricryptarli nuovamente sull'altra macchina c'è un altro modo che è invece importare il certificato da una macchina all'altra cioè nella console tu puoi fare esporta puoi fare esporta certificato e importa certificato sull'altra per cui sostanzialmente non devi fare niente non devi decryptare i file ti importerai il certificato che resta legato ai file per cui con le permission che erano prima le utenze che c'erano prima per cui hai entrambe le possibilità la dashboard è in modalità white label chiede Luca questa qua è una domanda credo che ci sia un minimo di personalizzazione ma non lo so Luca mi segno questa domanda e te lo faccio sapere non so se puoi perché la tua idea è di mettere il tuo logo immagino perché vuoi far accedere anche i tuoi clienti poi Massimo un notebook non riparte ed è decryptato posso togliere il disco e recuperare i dati? Beh sì assolutamente sì la domanda credo che sia riferita al fatto che tu l'hai decryptato con ovviamente attraverso la console come abbiamo fatto noi in questa demo a quel punto tu hai tutte le chiavi sia di BitLocker sia di EFS e non hai problemi si tratta solo di prendere il disco metterlo in un altro hardware quando tu inserirai il disco su un nuovo hardware lui ti dirà guarda che questo disco è decryptato devi inserire la master key e tu la master key ce l'hai nella console metti quella chiave e i dati sono in chiaro l'utenza invece con cui accedere è l'utenza legata alla chiave che avevi generato per quanto riguarda EFS dimmi se ti ho risposto oppure no Alfredo se una macchina è già attivo BitLocker per installare l'agente dovrò disabilitarlo dunque Alfredo ci sono un paio di best practice da seguire in questo caso una possibilità è questa ma è diciamo tutto documentato perché il concetto qui è che tu quella chiave la devi memorizzare dentro la console per cui la devi centralizzare la gestione una possibilità è quella ce n'è un'altra ma diciamo è facilmente gestibile il tuo problema per cui è una cosa già affrontata per cui non ci sono assolutamente problemi per gestire una macchina dove è già attivo BitLocker vediamo se avete altre domande quindi Luca questo me lo scrivo se è White Label o no un new message Massimo utenti diversi possono condividere file criptati interessante come domanda allora qua apriamo un vaso di Pandora però allora intanto per cominciare su FS non per quanto riguarda Simpli Secure ma per quanto riguarda proprio Microsoft sui server non è molto consigliato e spiego perché perché diciamo FS sui server perché immagino che tu quando pensi a condivisione di file stia pensando a una condivisione fatta su file server ad esempio si lega all'utenza quindi lega una chiave di criptazione all'utenza è un po' in contraddizione con la condivisione di file questa cosa qui è chiaro se tu vuoi gestire l'accesso ai file da parte degli utenti la cosa migliore è utilizzare le ACL le GPO e l'attività e rettori non la criptazione FS sui server Microsoft diciamo come best practice dice BitLocker abilitare FS attenzione molta attenzione perché appunto ci sono problemi di compatibilità detto questo Massimo se tu ti trovassi nella condizione in cui serve a un utente A di vedere i file B perché in qualche modo l'utente B per esempio se n'è andato semplicemente puoi importare la chiave dell'utente B per l'utente A e farglieli vedere dimmi se ho risposto o se c'è ancora qualche dubbio sulla tua domanda penso di sì perché non mi stai più scrivendo Massimo quindi penso di averti risposto bene vedo che il flusso di domande è diminuito grazie a te Massimo se non ce ne sono altre vi saluto e buon appetito attendi sì Luca info prezzi e modalità ti verrai contattato se subito se hai scelto di essere contattato subito per cui avrai i prezzi insomma le modalità di licensing grazie a tutti della vostra attenzione buon appetito buona giornata e ci vediamo ai prossimi appuntamenti con ACAB buona giornata a tutti e grazie ancora per l'attenzione ciao ciao